ciao amici e amiche del segno della vergine benvenuti su exotericordio sono angela questo è il loro scopo settimanale dal 7 al 13 ottobre prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi usati per la stesa e in descrizione trovate il link per acquistarli sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della sibilla italiana inoltre trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello lunare motivazionale e adesso andiamo a scoprire che cosa voglio dirvi partendo proprio dal taglio delle nostre sibille le norman e magari c'è un'informazione un qualcosa che può essere un tema dominante in questo caso con l'anello il tema dominante è l'accordo l'impegno l'unione di intenti e di idee probabilmente si può aprire qualcosa di importante su un accordo una collaborazione un'idea un progetto in comune a qualcuno o finalmente insomma riuscire a trovare un sano confronto insomma un impegnarsi insieme per un qualcosa di importante può essere un invito può essere anche un incontro un incontro dove parlare dove confrontarsi per alcuni di voi può essere qualcosa legato ai sentimenti certo alla famiglia e sentimenti alle amicizie festeggiamenti inviti cose del genere oppure riunioni e incontri per faccende lavorative e magari progetti in cui avete mente di coinvolgere più persone o anche una sola vediamo adesso cosa vogliono dirvi per le vostre energie a livello personale troviamo la dama il diario e l'albero qui c'è una fase di di evoluzione anche di riuscire a trovare a studiare soluzioni per qualcosa di importante e quindi avere dei miglioramenti una fase di crescita quindi in evoluzione di progetti e cose che state cercando di anche di sistemare con la carta della dama può essere una specie di suggerimento di lasciarvi aiutare sostenere o esserci una persona importante generosa e utile nella vostra vita o altrimenti potrebbe essere una vostra energia e quindi le sibille vi stanno dicendo di adottare sensibilità generosità attenzione cura e dedizione soprattutto a voi alle vostre idee quindi anche di avere un po di pazienza le energie sono abbastanza altarenanti si vede però queste carte soprattutto voi che avete al centro questo diario consiglia massima circospezione studiare valutare osservare anche cercare nuove informazioni e sono proprio queste cose che vi porteranno a far evolvere nel miglior modo possibile soprattutto situazioni del passato che dovete ancora sistemare e quindi ad analizzare ogni aspetto e a portare questi questi miglioramenti una nuova energia nuove cose utili e vediamo che cosa voglio dirvi adesso i segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua cancro scorpione e pesci troviamo anche poi quelli di terra toro vergine e capricorno adesso vediamo come queste energie si riflettono nell'ambito amore coppia single poi il lavoro le finanze troviamo la carta gelosia poi disgrazia allegria non vi preoccupate ovvio che quando escono carte un po diciamo difficili e complesse non vogliono dire che tutta la settimana andrà in questo modo vogliono comunque attenzionare queste situazioni che possono essere situazioni difficili da gestire riguardo a scenate di gelosia episodi che potrebbero dare fastidio certo magari valutate voi attentamente è vero che quella carta della gelosia non è che ha a che fare solo ed esclusivamente con la gelosia possono essere magari degli avvenimenti spiacevoli magari organizzate delle cose ci sono dei contrattempi oppure ci possono essere delle critiche delle divergenze contrasti di di idee oppure magari sia un po sfiduciati un po un po spenti a livello di umore e quindi questo potrebbe riflettersi purtroppo nel nello stato emotivo dell'insieme della coppia però vediamo anche che alcune cose volendo si possono risolvere subito o comunque arriverà qualcosa che farà migliorare la situazione e vi porterà gioia porterà gioia non solo come vi dicevo migliorare risolvere insieme recuperare portare pace e serenità di solito quella carta indica anche degli avvenimenti quindi situazioni esterne che vanno a ribaltare e a migliorare tutto vediamo che cosa adesso voglio dire per i single in questo caso troviamo la carta bambino lettera e mercante interessante queste carte perché il bambino ha sempre a che fare con le nuove situazioni con la nascita anche di emozioni e di sentimenti quindi effettivamente vuol dire sia miglioramento in un in un ambito che magari se non c'era niente se non c'erano soddisfazioni conoscenze niente diciamo di tutto ciò allora ecco che arriva una nuova fase un nuovo inizio nuovo inizio che può essere anche per tutti quelli che hanno avuto una brutta fase precedentemente anche magari per coppie che sono si sono lasciate e allora quindi qui c'è un un vero e proprio inizio prima di tutto per per voi stessi per stare meglio per riprendere e riorganizzare la vostra vita in questo ambito però loro parlano anche di possibili nuove conoscenze di persone che possono essere interessate a voi la lettera e le comunicazioni quindi tutti tutti tipi di comunicazione qualcuno che si fa sentire intraprendere comunque un colloquio una conversazione con qualcuno uno scambio ecco uno scambio di idee di trovarsi diciamo eccetera appunto quindi loro vogliono dire che la cosa principale che si vede è proprio questo nuovo inizio nuovo inizio qualsiasi situazione vi trovate quindi sia di rottura precedente o anche se non c'era proprio nessuno comunque qui c'è una svolta c'è qualche novità novità tendenzialmente come mi stavo dicendo proprio della lettera nuove persone nuove situazioni qualcuno che ci contatta questo è anche qualcuno del passato è effettivamente quindi sia vecchie che nuove conoscenze vediamo adesso cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche quindi del lavoro e delle finanze allora sponsari sospiri e baldoria e anche qui arrivano comunque delle cose in evoluzione che sono abbastanza positive sponsari sono cambiamenti importanti nella nella propria vita lavorativa anche finanze in genere o se state portando avanti degli impegni importanti dei progetti a lungo termine ecco qui c'è man mano un'evoluzione ci si deve continuare ad impegnare loro dicono se non riuscite a vedere ottenere subito degli ottimi risultati non vi preoccupate perché siete nel percorso giusto dovete comunque essere felici orgogliosi di voi stessi perché state facendo bene dovete avere solo un po di pazienza sospiri e l'insoddisfazione sospiri sono dei pensieri delle una fase di evoluzione di trasformazione in cui si può sentire pesantezza e stress per tutto quello che si sta vivendo questo è vero però appunto bisogna cercare di di capire come gestire al meglio le vostre energie per non non disperderle poi per tutti quelli che hanno intenzione di iniziare qualcosa quindi qualche novità appunto loro consigliano proprio di studiare di valutare di aspettare il momento proprio per mettere in campo qualche novità qualche nuova idea e un nuovo inizio e forse non è proprio il momento adatto in questa settimana quindi valutare se aspettare la successiva o prendervi ancora più tempo dipende dal tipo di progetto chi è in cerca di lavoro effettivamente c'è qualche proposta qualche idea insomma qualcuno che vi può aiutare a sostenere o a darvi informazioni utili però insomma si deve sempre valutare perché c'è qualcosa che deve essere attenzionata oppure dovete vedere se fa il caso vosso di sicuro c'è qualcosa di positivo sia per nuove informazioni per la vostra ricerca per proseguire nel modo giusto sia magari anche di ottenere qualche risultato e cioè una fase di prova iniziare veramente qualcosa e quindi insomma potete procedere in questo modo si conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile quello lunare e quindicinale alla prossima vi auguro una buona settimana ciao